Grazie Antonio, saluto i nostri amici che sono in ascolto, buon pomeriggio a tutti voi. Riflettiamo un po' più attentamente su questo problema del male e in relazione soprattutto alla nostra risposta di fede. E questo in considerazione di quello che stiamo vivendo in questi giorni della pandemia causata dal coronavirus. Vorrei partire in questa riflessione da un dato di fatto, e cioè che da un lato siamo colpiti, siamo provati, quindi è una prova che colpisce tutti. Dall'altro però, mentre stiamo soffrendo e soprattutto impauriti perché c'è questa diffusione sempre più capillare di questo virus e chiaramente vorremmo scampare da questa infezione, ci poniamo tanti problemi perché la sofferenza, perché la morte, perché questo nemico invisibile continua a minacciare la nostra vita. Dall'altra parte però c'è un tentativo da parte cristiana, da parte cattolica, di dare una risposta a questo problema e il tentativo mi sembra che sia, diciamo generalmente parlando, eccetto alcuni casi, il tentativo di spiegare questo problema, questo momento, diciamo, dal punto di vista della fede, dal punto di vista cristiano, è piuttosto un tentativo che da un lato giustifica Dio. Dio non c'entra niente in tutto questo. Dio deve essere semplicemente scartato dall'ipotesi di una sofferenza che viene permessa per una purificazione, quindi per un fine provvidenziale. Quindi Dio deve essere completamente messo da parte e il, diciamo, il problema viene scaricato completamente sulle nostre spalle, sulle spalle dell'uomo e sul fatto che si muore e Dio in tutto questo è assente, sembra che sia assente. Si muore, però Dio chiaramente non vuole questa morte e allora che cosa, qual è il rapporto di questo momento con Dio? Quindi mi sembra che da una generale risposta che viene offerta in questi momenti manchi quel rapporto diretto, immediato con Dio, con una giusta visione, diciamo, cristiana del problema della sofferenza. Quindi credo che sia opportuno richiamare alla nostra memoria una distinzione molto importante che si fa per spiegare qual è il rapporto tra Dio e queste cause, diciamo, seconde, questi avvenimenti, questi eventi che sono dolorosi e che colpiscono la nostra vita. Per fare qualche distinzione e quindi credo per avere una risposta adeguata al problema della sofferenza e anche al problema della divina provvidenza, perché se, alla fine, se non diamo una soluzione giusta al problema dovremmo concludere che Dio è assente e alla fine Dio non è, diciamo, non è in alcun modo coinvolto in questa situazione e quindi facciamo tutto noi, alla fine scadiamo in un ateismo di tipo pratico, neghiamo di fatti l'esistenza di Dio, neghiamo la sua presenza, la sua presenza. Oppure finiamo con il giustificare il tutto dicendo Dio non vuole quello che sta accadendo, ma in qualche modo però per ritenere la sua presenza, per tenere la sua presenza all'interno di questo quadro così doloroso, alcuni concludono dicendo quindi Dio soffre con noi. Lui non vuole tutto questo, quindi soffre con noi. Però pensate un po' più attentamente su questa cosa. Dio che non vuole la morte, chiaramente non la vuole, adesso vedremo in che senso bisogna collegare la morte, la sofferenza, la volontà di Dio, però se Dio in nessun modo è collegato a quello che sta accadendo, quindi Dio può rispondere a questa sofferenza, semplicemente risponderebbe con la sua sofferenza. Quindi Dio, un Dio che soffre con noi. Ma se è così, se questo Dio che non ci parla, non è coinvolto, ma alla fine è coinvolto soltanto nella sofferenza, perché soffrirebbe insieme con noi, alla fine chi veramente può liberarci dalla sofferenza? Quindi anche questo, coinvolgere Dio nella sofferenza, scusandolo e dicendo che comunque non ha, diciamo, la sua volontà è completamente estranea da tutto questo, però allo stesso tempo coinvolgendolo nella sofferenza, alla fine finiamo col dire che Dio è come noi. E quindi chi ci libera da questo problema? Ci liberiamo da soli, ci libera la scienza, ci libera la tecnologia, ma non ci libera più la fede, perché la fede non ha più un aspetto salvifico, in quanto Dio sembra muto dinanzi a questo problema. Quindi vedete come è importante richiamare il concetto giusto di volontà di Dio. Facciamo un attimo un riferimento importante alla volontà di Dio, una volontà che è assoluta perfezione. La volontà di Dio è la più grande perfezione, è infinita, perché Dio è infinito, è una volontà che è eterna, che vuole tutto ciò che vuole dall'eternità. E che cosa vuole Dio? Dio vuole anzitutto se stesso, e Dio può volere, può volere direttamente, semplicemente se stesso, perché, perché non c'è nessun bene che possa essere oggetto diretto della volontà di Dio, se non la sua infinita essenza. Tutto ciò che non è Dio, tutto ciò che è finito, è limitato, e questi siamo appunto noi, esseri finiti, esseri limitati, sono voluti da Dio ma non, diciamo, in se stesso, non nella sua stessa essenza, sono voluti da Dio fuori di sé. E sono voluti da Dio non direttamente ma sempre attraverso, per così dire, se stesso. Dio vuole gli altri esseri in quanto vuole sé stesso. Qualcuno potrebbe dire, ma allora Dio è egoista, pensa solo a sé stesso. No, è una, è un'assurdità ammettere l'egoismo in Dio perché l'egoismo è una imperfezione, l'egoismo è pensare a sé, non pensare agli altri. Ma Dio non può essere assolutamente egoista perché, perché nella sua infinita bontà ha voluto appunto creare tutte le cose, se fosse stato egoista non avrebbe creato le cose. Quindi dire che Dio è egoista è semplicemente fuori luogo. Dio può volere le cose che non sono sé stesso soltanto in sé stesso, è soltanto attraverso la volontà che vuole un bene infinito che è sé stesso. Questo ci dà modo di capire che le cose che non sono lui sono volute, ma in quanto devono contribuire a questo bene che è, che devono contribuire alla gloria di Dio, quindi al bene sommo, ma alla fine le cose volute devono sempre essere viste alla luce di un bene più grande, di un bene che è più grande della creatura singola, delle creature singole, e quindi un bene che è il bene della, il bene, il bene comune all'interno di una società, ma questo bene comune è un riflesso del bene eterno che è Dio. Quindi Dio fa tutto in vista di sé stesso, fa tutto in vista di un bene più grande, e il bene più grande assoluto è appunto sé stesso. Per cui questo già ci dà modo di capire che le cose che accadono sono comunque contemplate dalla volontà di Dio. Adesso dobbiamo capire che cosa Dio vuole e che cosa Dio non può volere, ma lo permette. lo permette semplicemente perché sa trarne anche un bene, sa trarne un bene, e questo è sicuramente il male. Ma soffermiamoci ancora un attimo su questa distinzione. Il fatto che Dio vuole le cose, le può volere semplicemente e soltanto in sé stesso, e in quanto vuole sé stesso, questo ci dà modo di capire che tutte le cose che accadono fuori dell'essenza di Dio, fuori della sua infinita, cioè della volontà che vuole sé stesso, sono cose che accadono e sono, diciamo, o volute o permesse da Dio perché rientrino, ritornino ad un bene, ritornino a beneficio di molti, contribuiscano al bene di molti, ad un bene più grande, e in definitiva contribuiscano alla massima gloria di Dio. Quindi, detto questo, credo sia opportuno fare una distinzione. Una distinzione tra la volontà di Dio che vuole le cose che sono altro da sé, fuori di sé, chiaramente, e la volontà di Dio che non può volere alcune cose perché, per esempio, queste cose sono un... sono una imperfezione, sono un... una privazione di bene, appunto, il male morale. Per fare questa distinzione, dobbiamo, diciamo, fare una distinzione tra quello che viene detto male fisico e male morale. Quindi dobbiamo addentrarci un attimo nel problema del male. Quindi adesso parliamo un po' del male. Questo tema che è un tema antico, quanto è antico l'uomo, è un problema che ha caratterizzato sempre il pensiero e la filosofia. Se Dio esiste, perché esiste il male? E questa domanda nasce soprattutto quando del male si fa una... lo si... lo si ipostatizza in qualche modo, lo si rende una entità in sé stessa. Quindi il male sarebbe un'entità che cerca di sfidare Dio, un'entità uguale, contraria a Dio. Quindi questo è il problema del... diciamo, dell'ognosticismo, del manicheismo, che fa del male una sorta di... di entità... di entità opposta al bene e quindi... e quindi ci sarebbe una dialettica fondamentale, addirittura eterna, tra il bene e il male. Oppure del male si può fare... si può vedere il male anche come... se non come una entità, addirittura una sorta di divinità uguale e contraria al bene, si può vedere del male una sorta di... di entità finita, ma... diciamo, finita, ma... in quanto esistente, in quanto ha un essere in sé stessa. E quindi anche in questo caso, anche se il male fosse un'entità finita, sarebbe comunque una realtà che ci... una realtà che diventa una continua minaccia alla vita dell'uomo. ma anche questa possibile... questa conclusione di fatti è una conclusione sbagliata. Perché? Perché il male in fondo non si può assolutizzare, non lo si può rendere una realtà in sé, perché il male in sé non esiste. Questo è... questa è la risposta cristiana, la risposta dell'intelligenza cristiana, cioè l'intelligenza che riflette alla luce di Dio, la luce della fede, ma è anche la risposta che è quella più adeguata, è quella più, diciamo, che riflette lo stato delle cose. Perché? Perché il male in sé stesso, il male in sé non può, non ha un essere in sé stesso. Il male esiste in quanto non c'è il bene che dovrebbe esserci. E questa è la percezione che tutti noi abbiamo del male. Quando succede qualcosa di male, appunto che definiamo un male, e noi ci poniamo subito la domanda ma perché è successo? Non siamo contenti, non siamo, diciamo, siamo, soffriamo, perché non vorremmo che quella cosa fosse accaduta. Ma perché non vogliamo che quella cosa fosse accaduta? Perché invece vorremmo che ci fosse il bene. Quindi, quando noi ci poniamo dinanzi al problema del male, non ci poniamo mai dinanzi al problema del male come una cosa che noi sappiamo essere completa in sé stesse e quindi dobbiamo rassegnarci. No, non ci rassegniamo proprio perché non vorremmo che fosse accaduta. Perché non vorremmo che fosse accaduta? Perché, appunto, quella realtà non doveva esserci, ma c'è perché non c'è il bene che doveva esserci. Quindi noi vorremmo trovare il bene, vorremmo il bene, ma non troviamo il bene e purtroppo soffriamo e purtroppo facciamo un'esperienza che definiamo un male. Per esempio, quando dobbiamo, abbiamo, facciamo esperienza di un dolore nella nostra vita che può essere un dolore fisico, un dolore, diciamo, spirituale, un dolore, un dolore morale, naturale, la perdita di un caro, di una cara persona. Perché noi soffriamo quando quella persona non c'è più? Perché noi vorremmo che quella persona ci fosse. Quindi non in quel caso, è un caso molto lampante, molto, diciamo, chiaro, che ci fa capire che quando una persona muore, quindi la morte, la morte è sì la mancanza, segnala il distacco tra me e la persona cara. Quindi soffro perché quella persona cara non è più con me, sebbene rimanga sempre con me, rimanga nel mio cuore, rimanga nei miei pensieri, rimanga spiritualmente presente, però fisicamente quella persona è venuta a mancare. Ma la mia sofferenza nasce proprio dal fatto che, pur sapendo che prima o poi quella persona doveva mancare, quando faccio esperienza di quella mancanza, appunto soffro. Ma è una mancanza. Non è la morte di quella persona, non è un male in se stesso. È il fatto che quella persona non c'è più. Quindi non c'è più la vita presente di quella persona. c'è un'assenza. E quindi in questa logica, nella logica della privazione, dell'assenza del bene, dovremmo considerare, dobbiamo considerare il male. Il male non è mai una cosa in se stessa. È sempre quel bene che non c'è, quel bene che noi vorremmo che ci fosse, ma che non troviamo. E questo ci fa soffrire. Dinanzi a questa situazione del coronavirus, dinanzi a questa pandemia generale, noi soffriamo. Perché? Perché non vorremmo che questa situazione si fosse scatenata. Eppure dobbiamo fare i conti con la realtà. Ma dinanzi ad una persona che soffre, una persona che muore, quella sofferenza causata, magari nel nostro caso dal virus, quella sofferenza è una sofferenza che nasce perché? Perché io mi vedo privare della mia salute. La salute che doveva esserci, ma che a causa di un nemico, di un nemico invisibile in questo caso, di un virus, viene pian piano a mancare e purtroppo in alcuni casi fino all'esito finale, che è purtroppo la morte. Però non dovrebbe essere così. Quindi c'è la percezione in questo caso che il virus mi priva, purtroppo mi può privare della salute, mi priva della vita, mi può privare fin anche di questa mia esistenza, esistenza terrena. Ma il virus in se stesso non è mai un male, non è un male assoluto, non c'è il male assoluto, c'è appunto questa, diciamo, questa realtà che è invisibile, questo veleno, se vogliamo qualificarlo con la sua etimologia, virus veleno, che di fatti mi priva del bene che è la mia vita. quindi detto questo, avendo fatto una precisazione sul concetto di male, che non potremmo mai assolutizzare, quindi non c'è un male metafisico, non c'è una divinità cattiva che ci fa del male e contro cui il buon Dio deve combattere, no, c'è soltanto Dio, Dio è uno, Dio è assolutamente buono, il male c'è perché c'è una privazione. Allora detto questo, detto che il male è una privazione, ma perché allora sorge il male? Qual è la radice di questo male? Ecco che allora dobbiamo distinguere tra male, diciamo, fisico, un male che riguarda il mio corpo, che riguarda la mia salute, che riguarda gli eventi naturali, e un male morale. Il male fisico, appunto, può essere una malattia, in questo caso il contagio, la sofferenza che nasce da questa malattia, oppure un cataclisma, oppure in generale una pestilenza, appunto, una pandemia che colpisce tante persone, colpisce tante persone. Questo è un male, un male fisico. Mentre il male morale, il male morale è il, diciamo, è quella privazione del bene che nasce a causa di una disobbedienza, a causa di un, di una volontà prevaricatrice che rifiuta il bene. Questo è il peccato. Il male, il male morale è il peccato. Allora, qual è il rapporto tra Dio e il male? Tra Dio e il male fisico, tra Dio e il male morale. Qui dobbiamo fare una distinzione accurata. Dio non è mai la causa del male, chiaramente. Dio non è la causa del male. Dio non può essere la causa del male, perché appunto il male è quel bene che dovrebbe esserci. Ma siccome Dio è il sommo bene, non può fare nulla che manchi di qualcosa, capite? Non può fare nulla che sia privo della sua perfezione. Tutto quello che Dio ha fatto è perfetto. E questo ce lo dice molto bene il libro della Genesi. Quando Dio crea le cose, tutto quello che Dio crea è cosa buona. Le cose create da Dio non sono un male. Dio non può fare il male. Dio non fa mai il male. Appunto perché non può far mai cose che sono prive della loro pienezza, della loro perfezione. E allora da dove nasce questo male? Qual è la radice di questo male? Il male fisico è la malattia, la sofferenza, una pestilenza. Qual è la radice di questo male? Chiaramente non è la volontà di Dio, ma c'è un'origine che appunto segna l'ingresso nel mondo della sofferenza, segna l'ingresso nel mondo della morte, della morte che conosciamo noi accompagnata molto spesso dal dolore, dalla paura, dalla sofferenza, eccetera. L'origine di questo male, del male fisico, non può che essere il male morale. E la Sacra Scrittura questo ce lo dice in modo molto chiaro. Quando al capitolo terzo del libro della Genesi leggiamo che l'uomo peccando contro Dio, quindi disobbedendo alla volontà di Dio perché ascolta la voce del serpente malefico, sedotto da questa voce di diventare come Dio, scegliendo da sé arbitrariamente ciò che è bene e ciò che è male, purtroppo seguendo questa voce malefica l'uomo pecca. Cioè disobbedisce a Dio, fa di testa sua con il miraggio di un giorno diventare possibilmente come Dio, diventare lui Dio mettendosi al posto di Dio, decidendo da sé ciò che è bene e ciò che è male. Questa disobbedienza fondamentalissima, una disobbedienza appunto originaria ha causato nel mondo l'ingresso di questo male, di un male appunto morale che è la radice del male di fatti e da questa radice morale ci sono anche degli effetti che si ripercuotono su tutta la creazione sulla persona stessa dell'uomo, su Adamo che viene colpito, che viene punito nel paradiso terrestre, sappiamo che il Signore si rivolge al serpente che viene maledetto ma poi anche Adamo dovrà lavorare con il sudore della fronte la donna che dovrà partorire nel dolore cioè il peccato la disobbedienza a Dio ha causato in quell'ordine creato così perfetto una sorta di prevaricazione una sorta di disordine e questo disordine si ripercuote sulla creazione si ripercuote anche sull'uomo e il disordine da questo disordine nasce nasce la sofferenza nasce la malattia nasce il dolore anche se dobbiamo pur ricordare che la malattia la malattia è diciamo fa parte anche del nostro della nostra vita della nostra vita fisica è vero che le malattie hanno la loro origine ultima in questa disobbedienza originaria che ha causato un disordine nella creazione nella salute nella vita dell'uomo però dobbiamo anche tener presente che d'altra parte la vita dell'uomo è una vita limitata noi non siamo Dio quindi la nostra vita è finita è è una vita contingente cioè ci siamo ma potremo anche non esserci quindi la causa del male che noi di cui facciamo esperienza non può che essere appunto questo male morale questa disobbedienza all'ordine creato da Dio con tutti i peccati che noi possiamo causare pensate pensate che oggi ci sono peccati nuovi se vogliamo ma molto più diciamo subdoli e allo stesso tempo molto più rovinosi dell'ordine della creazione e della della dell'ordine della persona creata secondo Dio quando decidiamo arbitrariamente ciò che vogliamo essere possiamo anche cambiare il nostro essere biologico decidendo secondo le nostre idee ciò che vogliamo ciò che vogliamo essere questo è un peccato che è un peccato direttamente contrario all'ordine della creazione che purtroppo con con gli altri peccati e questo in particolare produce un disordine un disordine che poi si ripercuote in queste sciagure in queste sciagure che purtroppo caratterizzano la nostra vita e allora se c'è un male fisico e c'è un male morale qual è il rapporto tra Dio e questo male fisico e male morale allora in rapporto al male fisico dobbiamo dire che Dio non vuole direttamente questo male fisico però lo vuole come mai come fine Dio non vuole il male fisico non vuole la malattia perché vuole vederci soffrire e così vuole vederci morire non lo vuole come fine ma lo vuole come mezzo cioè lo permette potremmo anche parlare di permissioni in questo caso perché Dio vuole questo male fisico questa malattia per esempio come mezzo per per insegnarci qualcosa di più grande per insegnarci che c'è un bene più grande della nostra salute che è il bene della nostra anima che molto spesso dimentichiamo Dio vuole come mezzo il il contagio del virus per esempio perché perché ci vuole scuotere dal nostro torpore vuole dirci che i nostri peccati magari stanno abrutendo la nostra vita che noi siamo fatti per la vita eterna quindi Dio vuole il male fisico mai come fine perché Dio non si compiace mai della sofferenza del dolore ma come padre lo permette lo vuole come mezzo per riscattare quel figlio da quel male che lo assedbia da un male che è di ordine morale e quindi vuole quella quella cosa come come mezzo per per raggiungere un fine un fine che ricordate è nella volontà di Dio sempre un bene più grande è un bene comune e un bene poi è un bene che è al è al di sopra anche del bene comune che è il bene eterno che è il bene della persona in relazione alla vita eterna e quindi alla gloria di Dio che deriva dalla salvezza delle anime in relazione invece al male morale quale rapporto della volontà di Dio Dio non vuole il male morale e non lo vuole mai né come fine ma nemmeno come mezzo perché il male morale è una cosa terribile Dio non può volere il male morale neanche come come mezzo per raggiungere un fine più grande Dio non vuole il peccato di Adamo anche quando quando noi professiamo che Dio che quando diciamo che il peccato è una felix culpa una colpa felice che ci ha meritato un così grande redentore noi non non stiamo inneggiando al male non stiamo inneggiando al peccato dicendo che grazie al peccato abbiamo avuto un felice abbiamo avuto la redenzione perché Dio altrimenti dovremmo dire che Dio ha causato il peccato per poi donarci la redenzione e no Dio non può volere mai il peccato ma lo permette e qui si si tratta di una vera permissione una permissione è semplicemente di permissione perché Dio lo permette perché s'attrarre da quel male che non vuole in nessun modo il peccato non è mai voluto s'attrarre da quel male un bene più grande e l'esempio più bello è proprio la redenzione dal peccato più crudele se vogliamo dell'uomo che rifiuta Dio dell'uomo che addirittura arriva a crocifiggere Dio Dio s'attrarre il bene più grande s'avvolgere quella condizione di disobbedienza di odio contro di Lui in una situazione di salvezza di redenzione trasforma quell'odio in amore con il dono di sé il dono di sé fino al momento della della crocifissione del figlio quindi il peccato non è mai voluto da Dio è permesso perché Dio è permesso con una semplice volontà di appunto permissiva che non è lo ribadisco né un volere quella cosa come fine né come mezzo con i teologi dovremmo dire non lo vuole né per sé né per accident ma lo permette semplicemente una semplice permissione perché Dio anche da quel male che resta un male il peccato resta un peccato l'offesa resta un'offesa ecco perché deve essere comunque è sempre riparata la giustizia di Dio deve essere riparata da quel male Dio nella sua infinita bontà sa trarre il bene più grande e appunto l'esempio più bello lo vediamo nella crocifissione di Gesù e nel dono che prepara quella crocifissione qual è questo dono che prepara la crocifissione il dono della eucaristia l'eucaristia è la trasformazione dell'odio dell'odio di Giuda che stava lì per lì per tradire il Signore intingendo nel piatto che Gesù gli dava in un atto di amore nell'atto dell'amore fino alla fine nel dono di sé trasformando un pezzo di pane nel suo corpo e quel corpo che verrà dato fino all'ultimo respiro fino all'ultima goccia di sangue sulla sulla croce ecco allora tirando le conclusioni da tutto questo di fronte a questo dolore che ci assedia in questi giorni in questi momenti Dio Dio dov'è non dovremmo dire semplicemente che Dio non vuole il dolore non vuole la sofferenza non vuole la morte di tutte queste persone ma soffre con noi perché in qualche modo comunque dobbiamo tenere Dio unito a noi altrimenti poi veramente ci sarebbe un distacco fatale che porterebbe all'ateismo pratico ma non possiamo dire che Dio non vuole assolutamente questa sofferenza e quindi in ultima analisi per tenerlo unito a noi dovrebbe soffrire come noi altrimenti di Dio facciamo un semplice uomo trasformiamo Dio in un semplice uomo Dio vuole ma semplicemente come mezzo perché si tratta di un male fisico vuole come mezzo questa sofferenza anche queste morti purtroppo ma le vuole come mezzo per insegnare a noi uomini qualcosa di più grande di più importante e per il cristiano questo deve essere molto chiaro non c'è soltanto questa vita fisica non c'è soltanto questo mondo e quindi la salvezza dovrebbe essere una salvezza da questo mondo per cui dobbiamo evitare ogni allusione a Dio che permette un male fisico come insegnamento come purificazione come come redenzione dal male che ci abita la vita non è soltanto questa dopo questa vita c'è una vita molto più grande c'è un bene molto più grande che il bene il bene dell'anima il bene della nostra salvezza eterna qualcuno si scandalizza anche se parliamo di bene dell'anima ma con bene dell'anima e con salvezza dell'anima intendiamo quello che la chiesa ha sempre inteso la salvezza dell'uomo nella sua totalità nella sua nella sua in ciò che lo caratterizza in ciò che è più profondo è più intimo a lui di lui stesso cioè il suo spirito e quindi e quindi un giorno con la risurrezione dei corpi anche il suo il suo corpo allora di fronte a questo problema dobbiamo dare delle indicazioni molto chiare alle persone altrimenti chi diciamo diciamo rischiamo di 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 propinare un una religione che sa più di ateismo che non di cristianesimo dinanzi a questo problema allora Dio Dio è qui con noi Dio è colui che guida questo evento è lui che nella sua divina provvidenza permette queste cose dovremmo dire rispetto al male fisico con un termine più più tecnico più preciso vuole come mezzo queste cose per per un bene più grande soprattutto per liberarci dal male che ci abita da quel male che è il peccato che è la vera radice di questo di questo problema e infine Dio non può soffrire con noi perché se Dio soffre con noi e soffre come noi Dio è come noi e alla fine qual è il passaggio successivo noi siamo Dio noi ci mettiamo al posto di Dio e se lui non può salvarci perché sta soffrendo come noi chi deve salvarci chi può salvarci quindi Dio non c'è più al suo posto c'è la la scienza al suo posto c'è la tecnologia al suo posto c'è la teologia che vuole normalmente mettere Dio da parte ma alla fine alla fine facciamo tutto noi siamo noi che soffriamo siamo noi i redentori della nostra vita una dimensione completamente orizzontale della vita che però non è soddisfacente non dà una risposta a quello che accade dunque credo che questa precisazione sia opportuna proprio per dare una risposta soddisfacente a ciò che sta accadendo a ciò che è sotto i nostri occhi